Buongiorno a tutti. Iniziamo. Allora, mi presento, io mi chiamo Diego Rinaldo, sono un professore ricercatore di marketing presso la Cage Business School di Marsiglia. Ho coordinato dal punto di vista scientifico questo seminario e oggi sarò il vostro host, lo modererò. Questo è il secondo workshop internazionale sulle marche territoriali organizzato nell'ambito delle attività del gruppo di azione 6 di EUSALP, la strategia dell'Unione Europea per la regione alpina, dal segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, da EURAC Research e dal polo moschiavo. Ora, prima di dare la parola ai nostri padroni di casa per i saluti istituzionali, ecco alcune informazioni tecniche. Allora, prima la traduzione simultanea. Cliccate in basso, per chi non l'ha ancora fatto, sull'icona con il globo dove c'è scritto interpretazione e selezionate la vostra lingua desiderata. Il bello dei eventi EUSALP è che si possono parlare tutte le lingue alpine, ognuno si esprimerà nella propria lingua madre. Quindi scegliete francese, inglese, italiano, sloveno oppure tedesco. Se disattivate questa opzione sentirete parlare gli speaker nella loro lingua originale senza nessuna traduzione. Poi volevo informare il pubblico che questo evento è registrato e verrà reso disponibile nelle prossime settimane. A chi, e sono molti che ci hanno scritto, non potrà essere con noi in questi due giorni. Ora, invito il pubblico a fare domande attraverso il box, sempre nel menu in basso, in basso che si chiama domande e risposte, question and answer, eccetera. E chiedo a chi vuole fare commenti o fare domande di farle indicando la persona che le rivolge e chiedo alle persone se le ritengono di rispondere per iscritto. Abbiamo un tempo alla fine per fare un po' question and answer a livello collettivo, però già in questo momento usiamo le possibilità di Zoom per poterci parlare e rispondere con un dialogo parallelo a quello dei relatori. Ora, invito invece tutti quanti a usare la chat in caso di problemi tecnici, quindi non tanto per fare domande ai relatori, ma semplicemente per i problemi tecnici. Speriamo non ce ne siano, ma quello è il nostro staff tecnico vi aiuterà a risolverli. Volevo anche dire che nel caso qualcuno di voi sia su Twitter, l'hashtag di riferimento per questo workshop è hashtag Territorial Brands e poi lo scriverò nella chat. Ora, due parole, due di introduzione. Questo workshop dura due giornate e oggi è dedicato ai grandi temi con cui tutti quanti dobbiamo confrontarci, che siamo un'istituzione, che siamo un'azienda, che siamo dei cittadini, ovvero quello della sostenibilità, della crisi climatica, dell'emergenza climatica, ma anche dell'economia circolare, dei grandi cambiamenti che tutti in grande dobbiamo porre in essere. E la domanda che ci faremo attraverso tutti i ricchissimi spunti che avremo oggi è in che modo anche le matte territoriali possono contribuire a dare un contributo in questa direzione, ovviamente anche grazie al supporto delle istituzioni locali, nazionali, ma anche fin in un'unione europea. Domani invece lasceremo la parola ai marchi territoriali che ci daranno il loro punto di vista. Allora, passo subito la parola al presidente di Eurac Research. Eurac Research è il nostro padrone di casa virtuale. Se fossimo dal vivo saremmo a casa loro, ci avrebbero ospitato e hanno messo in piedi tutta questa infrastruttura tecnica per poterci permettere di dialogare a livello virtuale. Quindi do subito la parola al signor Roland Psenner, presidente di Eurac Research, per porci il suo saluto. Grazie Diego. Ho deciso di scegliere l'inglese come lingua unica delle Alpi o non esistente nelle Alpi. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, a warm welcome from my side as president of Eurac Research. Eurac, this is 11 institutes and 4 centers, and we are doing research in disciplines as different as linguistics, federalism, alpine environment, earth observation, biomedicine, mummy studies, mountain emergency medicine, regional development, and minority rights, to name just a few of them. And, not to forget, we are also hosting the Alpine Convention, whose Secretary General Alen Kassmerko is with us today. Hello. I regard the diversity of our research agenda as our greatest strength, for it allows us to look at the big problems of today from different perspectives. And this is particularly important when we are confronted with unforeseen situations, as is the threat of biodiversity loss and climate change in a pandemic. Humans, we humans are using, sometimes even unknowingly, a plethora of ecosystem services. And for a long time in history, we took it for granted that they will support human life forever. I have been studying alpine waters and their response to global change since more than three decades. And it has become obvious that alpine ecosystems are undergoing rapid changes. Nowadays, I hope or I think that almost everyone has become aware that only healthy ecosystems can support the diversity of life forms, which includes not just insects, but our, but our cells. Scientists, I know that tend to look at the problem top down from a global perspective, for instance, by starting from sustainable development goals. The topics of this workshop encompass several of these very essential questions, but you will treat them from different viewpoints, touching the concepts of farm to fork strategies, circular economy, innovation, climate change, and how to make territorial brands more effective. Can we find better solutions for global problems by starting bottom up by considering small scales and territorial answers. My expectation is, yes, we can. No, yes, we must. Therefore, I wish to thank the inventors, supporters and participants of this workshop, organized in the framework of USALP Action Group 6, by the permanent secretariat of the Alpine Convention, Polo Boschiavo and URAC Research, coordinated by Diego Rinaldo, who will also moderate the event. Thank you for being with us today. Tomorrow, Wolfgang Meyerhoff and Christian Hoffmann will welcome you. And now I have the pleasure to hand the floor over to Christian Barret from the French USALP presidency. Thank you. Madame la secrétaire générale de la Convention Alpine, chère Alenca, Monsieur le président de URAC Research, Monsieur Roland Senner, Madame la représentante de la Direction générale de l'Agriculture de la Commission européenne, Mesdames et Messieurs les élus représentants des filières agricoles ou agents de développement de toute cette belle région alpine, Mesdames, Messieurs les participants, C'est un plaisir pour moi d'ouvrir à vos côtés cet événement important de la SUERA sous présidence française, dédié aux enjeux et aux atouts des territoires alpins sur les sujets de l'alimentation et des marques territoriales. Je suis toujours très honorée de participer à ces moments de coopération, et je salue l'ensemble des délégations des pays de l'arc alpin qui ont pu participer à cette rencontre, en espérant que l'amélioration du contexte sanitaire nous permettra rapidement de nous rencontrer physiquement. La coopération européenne alpine qui nous réunit aujourd'hui revêt effectivement toute son importance en ces moments troublés où les enjeux dépassent largement les frontières administratives. Il apparaît plus que jamais nécessaire de travailler ensemble entre voisins alpins, bien sûr, mais aussi entre les différents niveaux d'intervention publique pour faire face aux défis de la grande région alpine européenne. Nous faisons tous face, les orateurs précédents l'ont dit et les orateurs suivants vont le répéter, aux effets de la pandémie de la Covid-19 qui met en lumière les fragilités de notre modèle de développement. Déjà fortement déstabilisés par les effets du changement climatique, deux fois plus rapides dans le massif alpin qu'ailleurs. Dans ce contexte, depuis deux ans à titre exceptionnel, la France assume la présidence tournante de la stratégie macro-régionale alpine. À travers les différents séminaires et réunions de travail auxquelles nous avons participé, nous avons pu voir la formidable énergie et les compétences présentes dans nos territoires de montagne et la demande constante d'échanges pour construire collectivement un modèle de développement plus durable. En juin 2020, sous l'égide de la Commission européenne, les États et les régions ont approuvé un manifeste pour une région alpine durable et résiliente, initiée par la présidence française de la région, se sont engagées sur des priorités communes d'action pour les prochaines années, afin d'accélérer la transition écologique et énergétique vers un développement plus durable et d'accroître notre résilience face aux nombreux risques pesant sur eux, qu'il s'agisse d'ailleurs des risques naturels ou des risques sanitaires, alimentaires, ou bien encore économiques et sociaux. Sur les domaines qui nous concernent aujourd'hui, les États et les régions alpines se sont notamment engagés à promouvoir des modes de production agro-pastoraux durables, reconnaissant leur rôle fondamental dans le maintien de la biodiversité, la préservation des paysages, la réduction des risques et le maintien d'activités économiques ancrées sur les territoires. Ils se sont engagés également à favoriser le développement d'approches territoriales de production alimentaire durable visant la consommation locale de produits alimentaires de montagne via des circuits courts et équitables. Ils se sont également engagés à développer l'utilisation de marques territoriales et d'indications géographiques et enfin à soutenir l'inscription du patrimoine alimentaire alpin au patrimoine culturel immatériel de l'humanité auprès de l'UNESCO. Pour mettre en œuvre ces objectifs et faire de la région alpine un laboratoire modèle du pacte vert européen, le Green Deal, les partenaires veulent renforcer la gouvernance alpine, notamment en facilitant la participation des forces vives des territoires au projet, y compris les jeunes. J'insiste particulièrement sur l'importance de mieux associer les jeunes, qui seront les acteurs clés pour la mise en œuvre pérenne des changements auxquels nous aspirons. Un effort est à faire pour favoriser leur mobilité et leur apprentissage mutuel des langues alpines et des enjeux. Il s'agira également de s'appuyer sur les groupes d'action de USALP, dans lesquels doivent se construire techniquement et collectivement des stratégies et des propositions associant villes, vallées et montagnes de tout l'arc alpin. Nous devrons aussi renforcer les synergies avec la convention alpine, chère Alenca, c'est ce que nous faisons régulièrement. En ce sens, la gouvernance du groupe d'action 6, co-dirigée par le secrétariat permanent de la convention alpine et le land de Carinty est particulièrement exemplaire. A l'automne 2020 se sont tenus en France, à Grenoble, en salle et sur le terrain à Barcelonette, deux séminaires dénommés les Assises européennes du pastoralisme alpin, sous la bannière de la présidence française, qui ont mis en valeur les produits matériels et immatériels du pastoralisme, notamment la transhumance. Une centaine de participants ont suivi ces événements, malgré les circonstances, dont une vingtaine de participants européens, bruxellois, suisses, italiens et même albanais. De nombreux débats ont eu lieu sur les enjeux de la souveraineté alimentaire alpine et des propositions concrètes d'action ont pu être formulées, notamment sur la mise en place de systèmes de gouvernance alimentaire territoriale, comme les plans alimentaires territoriaux en France par exemple, s'inscrivant comme complémentaires des savoir-faire et infrastructures déjà établies par les filières. Un besoin d'accompagnement renforcé a également été identifié pour les petits projets visant à labelliser et à relocaliser des productions, que ce soit en crédit d'investissement ou en crédit d'animation, pour mieux structurer ces offres et leur accessibilité. Le sens de ces diverses rencontres euro-alpine est en effet surtout de regarder l'avenir, de le préparer et de construire ensemble les futurs programmes. Il s'agit de renforcer la coordination des programmes de financement de l'Union européenne, notamment des programmes de coopération territoriale présents sur le massif, mais également de participer à l'élaboration des programmes sectoriels de la politique agricole commune. A ce propos, je me félicite de la présence aujourd'hui de la Direction générale de l'agriculture, alors que les négociations sur la politique agricole commune sont dans la dernière ligne droite. Le commissaire à l'agriculture avait été invité à Grenoble et ne pouvant se déplacer, nous avons convenu d'un entretien en visioconférence avec les acteurs agricoles et pasteuraux du massif des Alpes. Je pense effectivement important que nous préparions rapidement et conjointement avec le groupe d'action 6 la teneur de cet entretien en intégrant les travaux de ces deux prochaines journées. Par ailleurs, si le Fonds européen de développement de l'agriculture et de l'espace rural est un outil important pour le soutien et l'accompagnement de l'agriculture sur le massif des Alpes, nous avons aussi la chance d'être concernés par plusieurs programmes transfrontaliers en opération sur les frontières françaises. Un programme Interreg France-Suisse et également un programme Interreg France-Italie. Nous bénéficions également du programme de coopération transnationale Espaces Alpins. Ces différents programmes sont également en cours de révision et ont vocation à vous permettre d'expérimenter et de développer des solutions partagées sur l'ensemble des Alpes. En ce sens, je suis convaincue que la coopération territoriale à l'échelle alpine peut être un puissant facteur de diffusion des innovations et également un facteur d'efficacité. Je remercie encore les représentants des pays alpins présents à ce séminaire et les acteurs français qui s'impliquent dans les différents groupes d'action de YousAlpes. Mesdames, Messieurs, je sais combien les citoyens de la grande région alpine européenne peuvent compter sur votre engagement, qui a motivé votre participation nombreuse aujourd'hui. Je vois que nous sommes 86 personnes connectées. Grâce à l'excellente préparation des organisateurs, que je remercie, toutes les conditions sanitaires sont réunies pour que nous puissions bien travailler. Je souhaite donc à tous des échanges fructueux pour construire les systèmes alimentaires de demain, toujours plus résilients et ancrés sur les territoires et avec, bien entendu, les attentes de la société. Je vous remercie. Je vous remercie. De Laurent Thierry, madame Barré, Um, dear all, I am very much pleased to be involved in launching the second EUSALP AG6 workshop on territorial brands in the Elpen region, together with Madame Christian Barret, representing the presidency of EUSALP, and Roland Psener, representing EURAG today, both being friends of mine. And why am I happy? First, because this is a sign of Elpen Convention's commitment to the EUSALP. And second, because the topic can be considered as an important concretization of the Elpen Convention's implementation. The international workshop is an important part of the work program of the EUSALP Action Group 6, which is led by the Permanent Secretariat of the Elpen Convention and the Austrian region of Carinthia. Working on this topic is not something new for AG6. The first EUSALP workshop on this was held already two years ago, in May 2019. More than 100 practitioners, so very similar number than today, of the agri-food sector, territorial brand managers, and experts on local development from all over the Elpen region, met at the EURAG research in Bolzano-Bosen for this event. The potential for development of territorial brands for local sustainable growth in the agri-food sector was explored, and evolving trends were discussed. Considering the huge potential the agriculture has for the development of bio-economy and sustainable food production, and thus for generating many certified high-quality products and environmental services, AG6 continued working on supporting and promoting sustainable value chains of alpine high-quality food products in the EUSALP area. The second international workshop is now dedicated to the specific challenges of smaller-scale territorial brands and their contributions to sustainable economic, social, cultural, and environmental development in peripheral alpine areas. The links of these territorial brands to climate adaptation and carbon footprint will also be dealt with. First, what does the topic have to do with the implementation of the Alpine Convention? Well, a lot. First, the creation of conditions for marketing of mountain farm produce based on distinctive, unique, nature-friendly production methods, and limited to the locality through guarantees of origin and of quality, is a direct implementation of article 11 of the mountain farming protocol of the Alpine Convention. Furthermore, territorial brands often realize the cooperation between tourism, agriculture, forestry, and handcrafts, and the combination of activities generating employment in the context of sustainable development. which article 20 of the tourism protocol calls for. Territorial brands also correspond to the green economy approach, to which the contracting parties of the Alpine Convention committed themselves in the declaration on fostering a sustainable economy in the Alps in terms of improving the quality of life and the creation of green jobs. And finally, the Climate Action Plan 2.0, adopted at the last Alpine Conference, defines the promotion of Alpine products and the increase of locally retained added value as one of the pathways to follow in the field of mountain agriculture. In this connection, the territorial brands could play a role in further supporting low carbon and organic farming techniques across the Alps and integrating them in local value chains. In a broader sense, worldwide, the activities related to the promotion of sustainable value chains of Alpine high quality food products contribute to break down to the local level the targets of the SDGs of the Agenda 2030 of the United Nations. This applies in particular to the goals number two, which is end hunger, achieve food security and improve nutrition and promote sustainable agriculture and sustainable goal 12, which is related to ensuring sustainable consumption and production patterns. In this way, the Alpine Convention proves to be a regional implementation of the UN agenda 2030. I would like to thank the co-organizers of the workshop from EURAC, who also host the branch office of PSAC, which also has been mentioned better on before, and the dedicated members, Madame Barret as well, and leaders of EUSALP AG6. I hope that this second EUSALP workshop on territorial brands in the Alpine region will contribute to disseminating good practices, but also to identifying common challenges to design and realize successful territorial brands that generate sustainable economic, social and environmental development. I wish the event a good course, and of course I already know that the moderation of you Diego Rinaldo has been proven long before. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. 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 sia a livello un po' accademico che a livello professionale, quali sono le cose su cui un pochino si discute. Mi prendo un secondo per condividere il mio schermo. Spero che voi possiate vedere bene, non le mie note di moderazione, ma il mio schermo così. E quindi inizio. Allora, parlerò in italiano, sebbene la mia presentazione sia in inglese. Allora, le marche territoriali sono innanzitutto marche o brand in inglese, che dir si voglia. Sono cioè dei nomi, dei simboli, dei logo, qualunque segno di riconoscimento che viene apposto su un prodotto per specificare l'origine. L'origine è da un produttore specifico e per permettere ai consumatori di distinguere quel prodotto rispetto a quello della concorrenza. Mi piace ricordare che il nome branding, marchiare, viene dal mondo dell'allevamento. Era una pratica un po' barbara con cui si marchiava a fuoco il bestiame di un proprietario per distinguerlo da quello dei concorrenti, cose che oggi non si fanno più, via dicendo. Ora, molto semplicemente, le marche territoriali sono marche che sono legate a un territorio. Ma prima di entrare nello specifico, volevo ricordare quelle che sono le caratteristiche delle marche che funzionano bene. Dovrebbero essere note ai consumatori. Se avete un logo bellissimo, ma se nessuno le conosce, le riconosce in un punto vendita e sa che esistono, allora il logo è bellissimo, ma da un punto di vista di marketing non funzionano. Si parla di notorietà della marca come il primo obiettivo che bisogna avere quando si crea una marca nuova. Ma non basta, ci sono marche molto note, ma che magari hanno un'immagine negativa o che hanno un'immagine coerente. Bisogna che queste marche significhino qualcosa per i consumatori e dunque occorre che ci sia un'immagine positiva. Questa immagine deve spingere all'azione, ovvero se io vedo un prodotto con quel marchio lì, con quel logo lì, devo essere invogliato ad acquistarlo. E la cosa molto più importante, soprattutto quando parliamo di marche nei territori alpini in cui l'agricoltura costa di più, queste marche devono avere un patrimonio di valori, di significati, in grado di giustificare il prezzo superiore che a volte è associato ai prodotti di montagna, ma non perché ci siano extra profitti esagerati, ma semplicemente perché è più costoso produrre in montagna rispetto alla produzione in pianura. Allora, un altro punto che voglio fare è che le marche territoriali sono delle marche, di cui parliamo oggi quantomeno, sono delle marche collettive, cioè sono delle marche gestite da un'organizzazione che mette a disposizione questi simboli, questi logo e fanno anche un sacco di altre attività di creazione di valore simbolico, ma non solo, a membri, a aziende di un certo territorio, purché rispettino certi criteri di qualità che andremo meglio a specificare. In questo senso anche alcune marche individuali possono usare il territorio, per esempio in Francia, Haute Couture francese, Dior, Parigi, Chanel, Francia, sono tutte cose che si fanno, ma in questo caso noi ci interessiamo a questo aspetto collettivo. Le marche territoriali in questo senso sono basate sul principio che l'unione fa la forza, unendo le forze di tanti piccoli produttori si permette a raggiungere una migliore notorietà e a comunicare meglio quelli che sono i valori che contraddistinguono quella marca. Poi non toglie, cioè non toglie che poi il singolo produttore possa usare il marchio comune e poi comunicare anche le proprie specificità per differenziarsi dai vicini. Allora, esistono all'interno di queste marche che fanno riferimento a un territorio ben specifico e che sono collettive, esiste una proliferazione di nomenclature nei diversi paesi, dell'arco alpino, ma anche al di fuori, nei diversi mondi professionali, ma anche nelle diverse discipline accademiche, perché il marketing rispetto alla protezione legale o alla geografia magari usano dei termini che sono leggermente diversi. Si parla in inglese geneticamente di place brand, a volte si parla di marche locali, di marche regionali e via dicendo. E anche quando si usano questi termini, a volte si fa riferimento a delle realtà e delle pratiche molto, molto diverse. Allora, a volte si usa questo termine city brand, ma con un riferimento che non è quello di promuovere i prodotti locali del territorio, certificarne la qualità. Questo termine si usa molto, ad esempio in Francia è diffusissimo, così per le iniziative di marketing territoriale, per attrarre nelle grandi città investimenti, quindi nuovi insediamenti di aziende che magari vengono da fuori e cercano di rilocalizzarsi, oppure nuovi abitanti, quelli talenti delle cosiddette classi creative. Nel mondo del turismo si parla di altri marchi collettivi che sono legati a un territorio, quello dei cosiddetti, uso il termine inglese che è un pochino più diffuso, i destination brand che vogliono migliorare l'immagine turistica di un luogo come destinazione turistica e quindi aumentare il numero di turisti, oppure semplicemente aumentare il numero di turisti target, quelli di qualità che si ha interesse ad attrarre. Entrando nel mondo della promozione collettiva dei prodotti, sono notissime, e a volte si fa un po' di confusione, le indicazioni geografiche come le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche tipiche, che sono normalmente relative a solo un tipo di prodotti, ad esempio un formaggio specifico come il Camembert del Normandie, un vino specifico come lo champagne e via dicendo. Ovviamente sono importantissime e queste marche le possiamo considerare marche territoriali, ma sono un tipo specifico di marca territoriale e oggi non ce ne occuperemo in maniera particolare. Ovviamente sono basate sulla nozione di terroir, su cui non mi do lungo, e hanno dei disciplinari di produzione, dei cahiers de charge in francese, il product specification in inglese, che sono molto normati. Ovviamente l'Unione Europea lavora molto con queste indicazioni geografiche, anche perché grazie ai patti bilaterali quelle riconosciute in Europa possono essere riconosciute anche nel resto del mondo, quindi sono molto importanti. Ma le marche territoriali di cui ci occupiamo in questi giorni sono quelle che sono un pochino più ad ampio raggio, non riguardano solamente un formaggio specifico, ma magari tutti i formaggi, il latte e gli altri prodotti, ma anche i vini, i salumi e tutto il resto, tutti i prodotti che possono essere realizzati dalle diverse aziende di diverse filiere produttive di quel territorio e possono andare oltre il prodotto fisico, possono andare oltre i prodotti alimentari per includere l'artigianato o altre materie prime, e possono andare anche a includere il mondo dei servizi, come i ristoranti, i punti vendita, hotel, ma anche il mondo delle istituzioni museali, ad esempio delle attrazioni turistiche e via dicendo. Quindi hanno un potenziale federativo di collaborazione tra gli attori del territorio che è un pochino più a l'angoraggio e possono permettere di includere anche quei produttori che magari non riuscirebbero a creare una indicazione geografica. Ora, questo è sufficiente. Allora, come dicevo, sono molto poco studiati. Se voi fate il test più semplice del mondo, andate su Google, indicazioni geografiche abbiamo un milione e mezzo e passa di indicazioni. È molto interessante notare che il primo, perlomeno nel mio Google, sulla base dei miei algoritmi, il primo risultato è quello dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, perché le indicazioni geografiche sono, dal punto di vista legale, i diritti della proprietà intellettuale, collettivi. E dicevo, sono molto studiate, c'è tantissima conoscenza ed esistono in tutto il mondo in maniere che sono abbastanza codificate, pur essendoci molta variabilità. Invece i brand territoriali sono molto poco noti, c'è molta confusione terminologica, come dicevo, e mi ha fatto piacere vedere che, sebbene ci siano pochissimi risultati, il primo risultato che io visualizzo è quello del workshop che abbiamo realizzato, grazie a EUSALP, proprio due anni fa, a Bolzano, ospiti di Eurac Research. Quindi c'è molto da fare, molto da capire, e questi scambi di esperienze tra i diversi paesi alpini, ma ci seguono anche persone da altre aree oggi, sono molto importanti. Una delle cose che abbiamo fotografato, grazie anche a questo seminario due anni fa, è che spesso le aree geografiche, le scale geografiche, possono essere molto molto diverse. Possiamo parlare di marche geografiche a livello nazionale, ad esempio in Svizzera, il Swiss Made è molto normato da questo punto di vista, a livello regionale, a livello locale. secondo dei confini che sono deliminati dai confini amministrativi in cui ciascuno Stato è diviso, ad esempio in Italia abbiamo i comuni, le province, le regioni e lo Stato stesso, ci sono comunità montane, ci sono altri tipi di entità, e questi sono diversi da nazione a nizione, anche nello spazio alpino. A volte cosa succede? Che quando è un attore pubblico che fa la prima mossa, viene naturale per un desiderio di non escludere nessuno, di creare una marca territoriale che corrisponda all'intero territorio di riferimento, ad esempio una provincia italiana, per dirne una, o un cantone svizzero. Questo a volte non è male, perché l'unione fa la forza, come dicevamo, però questo crea delle aggregazioni che possono essere un po' grandi, e questo vuol dire che a volte gli stessi operatori fanno difficoltà a collaborare tra loro, e anche dal punto di vista di marketing si fa fatica a comunicare un'area, un'immagine comune, perché i confini amministrativi dipendono da questioni politiche, storiche, via dicendo, e a volte mettono insieme aree che non hanno tantissimo a che fare, non sempre si riesce a creare un'identità comune. Quindi questo è uno dei casi che possono succedere. Un altro caso interessante per il lavoro di USALP è quando c'è un'area che può avere delle affinità culturali, a volte linguistiche, pur essendo separata da dei confini amministrativi che possono essere province, regioni, via dicendo, all'interno di uno stesso Stato, o addirittura transfrontaliere, ad esempio tra Sud Tirol e Tirolo in Austria, oppure tra Valtellina in Lombardia e la Valposchiavo in Svizzera, in cui si parla un dialetto che è molto simile. I confini che a volte facilitano le cose, a volte possono invece ostacolare. Quindi uno dei principi che diciamo in questo seminario in cui cerchiamo di lavorare sui marchi territoriali di piccola scala, quelli un pochino più piccoli, vanno bene i processi top down che a volte nel senso positivo sono di supporto politico queste iniziative, ma bisogna anche lasciare un pochino di libertà dal basso a che gli attori locali si organizzino secondo le proprie affinità, perché altrimenti ci può essere il rischio che certi marchi imposti dall'alto diventino delle scatole vuote che non funzionano veramente e questo è veramente un peccato, perché comunque le risorse si spendono. Vado verso la conclusione. Allora, io sono un professore di marketing e ovviamente questo è il modo principale con cui mi approccio alle marche territoriali, ma voglio dire che non si tratta solo di marketing perché sono fenomeni di sviluppo territoriale collaborativo, collaborazione è una delle parole chiave, proprio perché sono un pochino flessibili, soprattutto quando sono di piccola scala, possono riflettere meglio le istanze del territorio invece di avere regole del gioco che sono quelle standard imposte dall'alto e se così si vuole, quindi questo è il loro grande potenziale di flessibilità, si possono introdurre regole del gioco che possono favorire la biodiversità, la resilienza al clima, ma anche concetti di economia circolare, di carbon neutral e via dicendo. E devo dire che i parchi naturali, le biosfere UNESCO e altre entità di questo tipo che da sempre lavorano sul tema della natura e che a volte hanno anche loro delle marche territoriali, hanno delle pratiche che sono veramente ispiranti. Io non ho il tempo di entrare in dettaglio, queste sono le marche dei parchi nazionali francesi che hanno lavorato tantissimo in questa direzione con dei criteri molto specifici che non vengono imposti dall'alto, ma si accompagna, si fa venire voglia, gli operatori a raggiungere obiettivi di questo tipo. Questo è il marchio di qualità del Parco del Gran Paradiso, anche lì non possiamo entrare nei dettagli, ma sono cose veramente ispiranti. È il mio augurio in queste due giornate che tutti i grandi stimoli che riceveremo veramente facciano cultura su questo tema su cui ancora non si sa tantissimo e che diano veramente voglia, energia ed entusiasmo per mettere in moto delle soluzioni, per cogliere le sfide dei prossimi anni che sono di una urgenza grammatica. Allora interrompo il mio collegamento per entrare subito nel vivo e mi fa molto piacere introdurre. Noi abbiamo due keynote speech di grandissimo spessore e do subito la parola alla signora Luthgen della Commissione, come già introdotta, insomma, della Commissione Generale Agricoltura dell'Unione Europea che ci parlerà di quello che l'Unione Europea, questa grande istituzione, insomma, che sopra gli stati, soprattutto le regioni, può fare per accompagnare le filiere corte, nello specifico i marchi territoriali. Miss Luthgena, the floor is yours. Okay, now here I am. Can you hear me now? Yes, thank you very much. So, thank you, Mr. Rinalo, and thank you for the speakers at the opening and for Mrs. Psena, Mrs. Barrett, and Mrs. Mercolio for inviting me. That's a big honor to be there. Indeed, I have at several occasions already spoken to the Oysalp in different Oysalp events, which I find always very interesting. I was asked to present you a little bit with the Farm to Fork Strategy and the CAP, and there are opportunities for the short supply chains and territorial brands. However, I would like to put the question just the other way around. So, not to say, to speak too much about the role of the CAP and the Farm to Fork Strategy, but rather on the question to you, how really we have farmers and, well, you and the regions can provide the support for the big objectives we have in the Farm to Fork Strategy and in the CAP. Let me start by having some words on the Common Agricultural Policies. The Common Agricultural Policy has nine specific objectives, and I think here three of them are of particular importance. I mean, we have all the important aspects of the environment and climate, but here in this context of the conference today, we may have, sorry, I was a little bit too quick. We may have in particular the objective for farmers' position in the food chain. We may have in particular the support of generational, renewable and startup in rural businesses and also the societal demands on food and health and animal welfare, which are of utmost importance for the topic of today for territorial brands in the Alpine region. But let me start from the Green Deal. So the Green Deal was indeed something the new commission in December 2019 set up and already at that time clearly said they will come up with the farm-to-fork strategy for a fair, healthy and environmental-friendly food system, which then they did in spring last year. So it didn't take long so that in May last year, after the Green Deal was published in December, before it came up was the overall objective to have a sustainable food system and these in all the three dimensions. I think this is very important to raise all the time, that it's not only the environmental sustainability, but it's very much also on the sustainable, social sustainability and the economic sustainability. So it's in with this context that the farm-to-fork strategy was to cover all stages in the food supply chain. And we see quite a lot of challenges in that sectors, which are numerous and which have to be tackled. And it has been made very clear as from the beginning that the common agriculture policy and what we will call the CAP strategic plans for the future per member state, so the implementation of the common agriculture policy must fully reflect these ambitions and the elements of the farm-to-fork strategy and the Green Deal. So that is first of all most important. The overall goals of the farm-to-fork strategy, of course, is to reduce the environment and climate footprint of the food system to lead to a global transition towards competitive sustainable from sustainability from the farm to the fork and to tap into new opportunities also for people in the rural areas and for new generations and to create a robust and resilient food system. And I think that has become very clear also with the pandemics. I would like to focus on four targets here only. There are a little bit more, but let's focus here. This is the target on chemical pesticides to reduce them by 50%, but also to reduce the more hazardous pesticides by 50%. So this is a double target to reduce nutrient losses by at least 50% while ensuring no deterioration in soil fertility. And so this will reduce use of fertilizers by at least of 20%. On the third option, the third objective is to reduce the sales of antimicrobials for farmed animals and also in agriculture by 50%. And last not least is to achieve a coverage in the EU by 2030 of 25% of the area under organic farming. These are the big objectives of the farm to fork to which the common agriculture policy is supposed to deliver. What are the concrete actions? So the overarching action is a legislative framework for sustainable food systems, which will come up in 20, now I can't, because I have just sung. So in 23, with a framework with comprehensive set of general principles and requirements on the sustainability of food systems with the basis to ensure policy coherence at EU and national level and to mainstream sustainability in food-related policies. and the provisions on governance, collective involvement of stakeholders, etc. This includes also a contingency plan which is to be set up this year for ensuring food supply and security in times of crisis. And this is the reply to the current pandemic. So, as I said in the beginning, we have two issues here which are interesting for this workshop today. It's for the, on the one hand side, the sustainable food production and on the other side, the stakeholders in rural areas in mountains to participate in the food chain and in territorial brands. in December 2020. So, last December the commission issued recommendations according to the specific objective of the common agriculture policy to the member states to each of the member states. They are public on the side of the DG Agri and they started what we call a structured dialogue with the member states how they will set up the cap plans. I should say because I didn't speak too much about the details of the future common agriculture policy but the, what we call the cap strategic plans which will be set up by member states are to start in 2023. So, initially it was of course foreseen to 2021 but due to the negotiations which are still ongoing we hope to have the end of the negotiations at the end of these months under the Portuguese presidency. Due to this delay we had to have introduced a two years transition so we will start with these cap strategic plans in 2023 or the member states will start with them. So, with these recommendations per member state we started the structural dialogue and we are in intensive discussions with the member states how they will set up the strategic plans and what they will plan in terms of support for the different actions in the, in this sector. in the future more is to come as the revision of the sustainable use of pesticides directive next year the revision of regulations to facilitate plant protection products containing biological active substances the action plan for the organic sector on which we are in which we are highly involved and the action plan for the integrated nutrient management to reduce pollutions from fertilizers. This is the actions really very closely related to food production but there is far more. There is also and here now I will only mention a few of them those in yellow because otherwise we will take too long. There's also the legislative initiatives to enhance cooperation between primary producers so in order to strengthen the food supply chain and the farmers position in that food supply chain. It is the development of an EU code and monitoring framework for responsible businesses and marketing conduct in the food supply chain it is the revision of the EU promotion program that we are currently looking at and we will have an open so we just in the moment have an open public consultation on the review of policy of the policy on promotion inside and outside the EU. I will later on provide the link in the chat so that you can copy it and you can have a closer look to that. Here I would like to say closely to the relation to local brands and territorial brands. Of course the EU is supporting local and territorial brands and of course as you know geographical indicators but at the same time the EU is also a major net exporter of agri-food products and they're also widely traded within the EU. So an exclusive focus on promoting local food systems or local sustainable food systems and territorial brands of course could hurt also the agricultural sector but I think this is not what we are speaking about. Just to name an example what Mr. Rinaldo took up the GIs the geographical indicators they are in Europe they are twice as valuable as similar products and more than 20% of these is generated through experts while very little of this is really sold locally. So the different aspects here are very interesting to look at. We have also the proposal for sustainable food labeling framework to empower consumers to make sustainable food choices that is to come a little later in 2024 and we have a lot of activities enabling this transition we have to mention the research innovation investments etc. So there is the whole program of Horizon 2020 which is the European research program which has now had an additional call for 1 billion euro for green deal priorities there's also under Horizon Europe 10 billion in research and innovation related to food bioeconomy natural resources agriculture fisheries aquaculture and environment there is partnership on food systems there is the European innovation partnership under the common agriculture policy that brings research and practitioners together to develop new production new products new production processes are and improve agricultural practices etc. The themes of these innovation partnerships are very broad and we have the European Regional Development Fund to fund and of course and this is what I'm working most on is the European Agriculture Fund for Rural Development and the ERFID there is also in the farm to fork and this is something not to forget when we speak about rural areas that there is the objective of fast broadband internet which plays a big role in short supply change and then setting up local or territorial enterprises just to come briefly to the common agriculture policy and to the part of rural development of it the future common agriculture policy will have still the full range of relevant pillar two support which remains available as it was in the past so as it is in the current rural development programs which are programmed either at national level or regional level in Italy and in Germany but in the future we will have these within a full cap strategic plan together with the direct payments and with the other and also with the sectorial programs which may play a particular role here the key relevant support types are management commitments including agri environment climate commitments organic farming and animal welfare so support for specific commitments going beyond the legal requirements which have existed in the past and which will see a strong reinforcement we have also in the first pillar the future eco schemes so we will have a clear mandate and a clear objective to enhance the environmental ambition of the future common agriculture policy we have support for investments for example precision farming can be an example but there are many others there is still as in the past and again reinforced with the topics of environment the issue of knowledge transfer advice and training and many possible supports for innovation cooperation on joint approaches to environment projects and practices the common agriculture policy provides large flexibility and scope for member states to design and propose their rule development interventions addressing their specific needs in the cap plants and as I said at the beginning we are in the moment very much in discussion with the member states and we see already very good ideas of what they want to do just here in the nutshell again these so we have member states design these interventions on the basis of their needs assessment and of their strengths and weaknesses of their regions and according to eight broad EU interventions and the red ones I marked here are for certain well for sure the most important here in these contexts of today just as very almost last slide enabling transition of course is a lot with advice knowledge and data so there is advisory services and data and knowledge sharing is a big issue of which also support to small and medium enterprises in the food processing can really profit and have their go and their support but of course and to sum up transition to sustainable food systems and to the development also of territorial identities and territorial which may include territorial brands this transition requires a collective approach taking on board farmers fishers and the so the local producers but also the input industry and the advisory services then the retail and food services and the hospitality sector the research and innovation and finance but also the citizens and the social partners so with this one I would like to end and I thank you very much for your attention thank you very much this is and point taken on the fact that both geographical indications and territorial brands can play I would say rather complementary role and it's not to say that one should exclude the other this is not to belittle the important role played by geographical indication that was not at all the role it's other things you know they can be complementary for different goals but thank you very much for making this point and to show the richness of the means that the European Union and I also like how you started that it's not what the EU can do for farmers fishermen and citizens but it's also the other way around and that is a very nice point to make and now I would like to give the word to Marie Cloteau who is the director of Euro Montana Euro Montana for those who don't know about it is the oh sorry why am I speaking English I'll switch Italian chiedo scusa non so perché mi ero messo a parlare in inglese allora voglio dare la parola a la signora Marie Cloteau che è la direttrice di Euro Montana che è l'associazione europea per le aree Montana in questo workshop parliamo abbastanza di Alpi però è molto bello che Euro Montana sia qui con noi per darci una prospettiva che riguarda anche le Alpi ma non solo perché ci sono esperienze entusiasmanti come quelle di cui ci parlerà che sono sviluppate in altre montagne in giro per l'Europa Marie ti cedo la parola per presentarci il lavoro eccezionale di Euro Montana sul tema dell'innovazione dell'economia circolare grazie mille per essere con noi essere un'opportunità veramente interessante per i nostri montaggi e io prenderei tre esempi veramente precisi, soprattutto alcuni che sono dei marki territoriale che hanno potuto utilizzare e mettere in avanti l'economia circulare nei loro marki. Quindi, in Rammontana, on existe depuis 25 anni e il nostro buto è davvero di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni di montagne, di avere delle montagne vivante. E una di nostri particolari è di non essere presenti solo sulle montagne, ma di essere su tutti i massi montagni in Europa. E soprattutto, abbiamo dei membri molto diversi. Abbiamo anche delle autorità locali e regionale che delle università, delle agricoltze, delle chambi di commercio e delle industrie. E questa diversità di acti che fa la force di nostro interesse per avere delle posizioni rappresentanti le montagniere in generale. Quindi, perché è interessante di concentrare sull'economia circula? Il faut bene prendere in mente questo nuovo contesto europeo. Antonella l'a presentato, questa nuova donna verte, che si traduisce par una nuova strategia di farciata alla farciata per l'agricoltura. Ma in maniera più generale, c'è veramente tutti i campi di economia che sono impactati da questa nuova donna europea. E c'è veramente un'ambizione molto forte per andare verso una neutralità carbone d'ici a 2050. E ciò va passare, notamment, per un nuovo plan d'action per l'economia circula. E c'è veramente delle nuove ambizioni, notamment per gli industriali, per les encouragere molto forti, ad andare verso un'economia molto più circolata che avanti. Ora, perché è interessante per noi, e soprattutto per i nostri territori di montagna? Il faut bene rendere conto che il modello economico acto, qui è basato su un'economia linea, non è durabile. Per ogni anno, l'umanità consomme 1,4 x le risorse disponibili su nostra planetà, nella nostra civilizzazione, nella nostra città di sviluppare. E quindi, arriviamo veramente a un momento in cui abbiamo un appuisimento di nostri risorse naturali e di nostro modello di vita attuale. Quindi, le modello economico che sono basato su dei processi lineari di produzione, di consommazione, di eliminazione, non possono continuare. Quindi, bisogna fare altre cose. E l'economia circula è interessante per questo, perché è riposo veramente su il principio di partage, di l'allocazione, di la riutilizzazione, di la riparazione, di la remise a neuf e di recyclare dei prodotti e dei materiali in un circuito che è ideale fermato. Quindi, l'idea è veramente di ridurare le déziet, tutto in conservando i prodotti e i materiali in questa città di produzione e consumazione il più tempo possibile, e in mantenere una utilità e una valore elevata a tutti i stadi di produzione. In quanto riguarda un'economia circula, di la conception del prodotto, si pensi a questo che il prodotto va diventare una volta che il ne sarà più utilizzato. Come va essere utilizzato o riciclato, o come le déziet che mi produzione possono essere una resursa per qualcuno di altri. E là, c'è una differenza fondamentale. Le déziet di una produzione possono veramente diventare dell'or, possono veramente diventare una resursa per d'autres produzioni. E là, on change veramente le paradigme. E perché è interessante, tutto particolare per i nostri territori di montagna? Come vous le savez tutti, i nostri territori di montagna hanno delle risorse extraordinariche in termini di agricoltura, di qualità, ma anche in termini di risorse forestiere. Per esempio, 41% di nostri zone di montagna sono couverte per le forze. Abbiamo una biodiversità che è straordinaria nella nostra zona di montagna, di avanti naturali, con 43% delle zone natura 2000 che sono in zona di montagna. Quindi, per i nostri territori, è veramente importante di maximizzare la valore dei risorsei extrai, e di le gestire in modo molto più durabile, per arrivare a mantenere questa qualità di vita elevata che può avere in nostri territori. L'economia circolare può anche presentare un certo numero di opportunità. Abbiamo ben d'accordo che quando abbiamo un business quotidiano, non vogliamo non solo encouragere l'environnement, il bute è anche di poterare in vivere. Quindi, ci sono anche dei rapporti del Parlamento europeo che hanno cercato di listare tutte le opportunità che possono essere liate a questo nuovo modo di pensare circulare. D'abord, ovviamente, per l'environnement, diminuzione dei risorsei, diminuzione dei gasi a effetti di serra, quindi, è abbastanza evidente. Ma c'è anche una sicurità economica e una sicurità dei risorsei, perché la riutilizzazione e il recyclare dei matiari primiere permettono di diminuire la dependenza a l'égare delle importazioni, e ci permettono di ridurare l'incertitudine quanta la volatilità dei risi. E poi, ci permettono anche una competitività economica. Perché? Perché le persone che adottano i principi di economia circolazione sono più competizioni, sono più utilizzate le loro risorse. E poi, magari, sono anche difficili di innovare in loro processi, in loro prodotti, in loro materiali. Quindi, ci sarà anche una stimolazione che va loro essere benifici. E poi, in i territori di montagna, con i contrainti geografiche spessiche, il transporte molto carico, generalmente. in operation inationalia di montagna, in attenzione, in attenzione, in attenzione, non sono forsemmo délocalizzate molto più lungo in nos valli. Concrètement, prendiamo tre esempi spessi, e ho fatto fatto per una volta di non andare in Alpes. Il primo è in Pyrénées, una piccola pyrénée che si chiama Pyrénées Creation, in Alpes francese. In realtà, hanno successo con un design moderno e delle creazioni innovanti, come dei schossi, dei plaidi, dei saci, dei tapici, a remettere la laine dei moutoni al gozo del giorno, a lui redonner veramente le lettere di noblesse. En fait, ce che si è passato, c'è che nelle decennie, la laine dei moutoni non era più utilizzata. La laine dei moutoni non era più utilizzata, non era più utilizzata, o allora on la vendò a très bas coi per l'exportazione, per che in Inde o in Chine, on puisse l'utilizzare e alla revenire après sous prodotti finis, souvent de vettements de basse qualità. Or, c'è una filiera che ha existito veramente durante la fin del XIXe siècle en France. Et donc, Pyrénées Creation souhaite vraiment, e depuis un certo tempo maintenant, retravaille avec les eleveurs locaux pour vraiment que les eleveurs puissent redonner une laine de meilleure qualità. Et la laine, en fait, c'est vraiment un produit qui est très intéressant parce que plus l'éleveur travaille bien, meilleure est la qualité de la laine. Donc, en fait, on voit directement le bon travail de l'éleveur dans la qualité de la laine de ses moutons. Et puis, l'éleveur, ça lui permet aussi non seulement de valoriser évidemment sa laine, sa viande et son lait, mais aussi sa laine. Donc, une valorisation supplémentaire pour les eleveurs. Et Pyrénées Creation vraiment accompagne les éleveurs, va sur les lieux de tonte, essaye d'expliquer, essaye de revaloriser des anciennes races de moutons qui sont connues pour leur qualité lénière. Donc, ça permet aussi une redynamisation des moutons dans la région. Et puis, le lavage, le filage, le tissage de la laine vont se faire vraiment en partenariat avec des entreprises locales au plus proche du territoire. Et Pyrénées Creation, ils ont vraiment essayé de s'axer sur la qualité. Elle s'inscrit dans une démarche qualitative à plusieurs respects. Donc, déjà, en sélectionnant de la laine de qualité auprès des éleveurs et en travaillant avec eux, en essayant d'aller dans un commerce éthique et notamment en ayant pris la marque Esprit Parc National. Donc, c'est une marque territoriale qui reconnaît l'engagement, l'authenticité, le respect de la nature, tout en assurant la préservation et la promotion d'un territoire d'exception. Et Pyrénées Creation fait également partie d'un réseau qui s'appelle Atelier Laine d'Europe et respecte leur charte de qualité pour ce qui est de la traçabilité et de l'écologie de leur laine. Donc, c'est vraiment un exemple intéressant, je trouve, parce que c'est vraiment un produit qui était ancien, la laine, qui était délaissée, qui était jetée. Et ils essayent vraiment de le remettre au goût du jour et de continuer dans la transmission du savoir-faire, notamment auprès des jeunes, notamment auprès des lycées, notamment des lycées de design ou de mode pour vraiment faire continuer cette transmission à un public jeune. Un autre exemple, cette fois-ci, on va partir complètement dans le nord, en Finlande, à Houlou, où en fait, on a l'entendre biologique. Et en fait, cette cendre biologique, c'est quoi ? C'est un sous-produit de la fabrication de l'énergie et des entreprises de papier, de pâte à papier. Et quand on fait cette pâte à papier, on produit un déchet, de la cendre biologique. Et donc, on estime qu'il y a environ 650 000 tonnes de cendres biologiques construites tous les ans. Et sur ce volume-là, il y en avait 500 000 qui n'étaient pas utilisées et qui devaient être jetées. Alors, ça avait un coût de jeter cette cendre biologique, mais on n'en faisait rien. Et donc, Rackestus a eu l'idée, en fait, de changer cette cendre biologique, de la transformer en granule. Et cette granule est vraiment utilisée comme un fertilisant dans les forêts. Donc, il y a eu des études qui ont été faites, qui ont montré l'efficacité de ce fertilisant. Et ces granules peuvent aussi être utilisées, par exemple, dans des constructions de routes. Donc, là, on est vraiment dans un exemple, tout ce qui est plus circulaire, que les déchets d'une production, d'une entreprise, même de deux entreprises spécifiques, vont être utilisés dans une nouvelle production et vont permettre un nouveau cycle circulaire. Mon troisième exemple, qui reprend aussi une marque territoriale, est aussi dans les Pyrénées françaises. Et c'est, en fait, la marque du parc régional des Pyrénées-Ariégeoises. Alors, dans leur charte de qualité, il y a trois critères. Le premier, c'est le lien avec le territoire. Donc, le but, c'est vraiment que les matières premières doivent être locales. Le bénéficiaire doit vraiment s'engager à faire découvrir son patrimoine et son territoire et travailler avec des acteurs locaux. Il y a également une dimension humaine, puisque les producteurs et les prestataires doivent mettre en place des productions authentiques, non standardisées et développer le contact humain. Et il y a le respect de l'environnement. Et dans ce respect de l'environnement, les producteurs et les prestataires doivent vraiment veiller à une meilleure prise en compte de l'environnement, à la gestion des déchets, à la diminution de la consommation d'énergie. Et toute l'économie circulaire est encouragée dans ce cadre-là. Donc, trois petits exemples concrets qui bénéficient de cette marque, des parcs du Pyrénées-Ariégeoises. D'abord, une ferme à Castelnau, d'un agriculteur qui produit du fromage, labellisé avec cette marque territoriale. Et l'idée de cette ferme, c'est d'être la plus autonome possible, la plus circulaire possible sur son propre territoire. Donc, elle est autonome en termes d'alimentation, quasiment autonome en termes d'alimentation du troupeau. Donc là, le troupeau n'est pas trop grand pour qu'on puisse finalement fournir l'alimentation directement avec les pâturages de la ferme et vraiment limiter l'apport d'alimentation extérieure. On a une autonomie énergétique, puisqu'il y a un séchage en grange qui se fait sans fioul par des capteurs solaires. On a une autonomie dans l'épuration des déchets. Le petit lait venant de la production du fromage sert à l'alimentation des cochons. Les déchets des vaches vont être récupérés sous forme solide pour éviter le lisier. Et puis, ils vont être compostés, puis répandus sur les champs pour permettre de l'utiliser comme compost. On a également une autonomie dans la transformation du fromage. Donc, tout se fait à la ferme. Et on a aussi, avec les autres agriculteurs du coin, une force collective de commercialisation, puisque les agriculteurs se sont mis ensemble pour encourager les circuits courts et notamment sur les ventes au marché, mais aussi, par exemple, dans des magasins un peu plus grands, les Biocop à Toulouse. Toulouse, qui est la ville un peu plus grande, la capitale régionale. Donc, l'exemple d'une ferme. Un autre exemple sur ce territoire, c'est un exemple à Couseran, où on a une entreprise, Ariage Énergie Bois Forêt, qui construit des plaquettes bois. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rester sur le territoire. La solution est rentable à partir du moment où on est vraiment dans un petit territoire de 30 kilomètres, ce qui nous permet vraiment de réduire les coûts de transport. Donc, le bois utilisé, c'est des bois issus de la gestion durable de leur forêt. Ils sont transformés en plaquettes. Ces plaquettes vont servir au chauffage des habitations collectives, donc des logements sociaux et des municipalités, par exemple. Et ça va permettre de réduire le coût du chauffage. Et ça va permettre aussi de produire vraiment, de développer l'emploi local. Et enfin, un bistrot, donc un petit restaurant qui a été rénové en bois local à Paillès, donc toujours dans la même région. Et là, l'idée, c'était vraiment d'avoir, de rénover ce bistrot avec des matériaux de construction locaux et des matériaux recyclés, donc notamment avec du bois et du béton de chanvre. Et la difficulté, c'est qu'en fait, sur le territoire, il n'y avait pas de constructeurs qui étaient capables de faire la totalité du chantier. Il n'y avait pas cette force-là. Donc, ce qui a été fait, c'est que le marché public a été divisé en petits lots pour faire en sorte que les petits producteurs du coin puissent y répondre et puissent comme ça vraiment avoir une réponse locale et vraiment développer les solutions avec les ressources du territoire sans aller ailleurs. Donc, pour conclure, avoir une approche basée sur cette économie circulaire, ça représente vraiment un enjeu environnemental, mais c'est aussi une opportunité économique. Donc, c'est vraiment quelque chose que nos acteurs de montagne peuvent et doivent saisir. Et puis, pour pouvoir y arriver, il y a vraiment le besoin extrêmement fort de la collaboration et d'échange, y compris au niveau local. Donc, c'est très, très bien au niveau alpin, au niveau européen, mais aussi au niveau local et régional, et de vouloir innover. Et quand je parle d'innovation, je ne suis pas toujours en train de parler de grand développement technologique. Je suis aussi en train de parler d'innovation sociale, d'améliorer ses processus, ses relations. Donc, ça, c'est très, très important. Et si vous souhaitez être inspiré, il y a une plateforme européenne sur l'économie circulaire. Donc, ça ne concerne pas que les territoires de montagne, mais c'est normalement très intéressant avec beaucoup d'exemples. Et nous-mêmes, au sein de Romontana, on a fait une étude sur l'économie circulaire dans nos forêts de montagne. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'exemples, n'hésitez pas à aller consulter ces documents. Merci beaucoup et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Marie, merci beaucoup pour ces cas inspirants que vous avez donné, et que speriment possano circulaire encore. Vraiment, merci pour avoir adotté cette présentation, centrant vraiment le cœur de ce seminaire, de ce que nous avons fait. Passons maintenant la parole et rentrons subit à parler d'un autre de grands temes. L'économie circulaire est sûrement un, aussi supporté par l'Union Européenne, mais l'autre est un peu l'emergence climatique, c'est ce qu'on peut faire. Et c'est très beau, nous sommes très contentes aujourd'hui, d'être riusciti anche ad assicurarci la presenza del signor Helmut Ojeski, del Ministero federale austriaco per l'azione climatica, che è anche il chair del Comitato consultivo sul clima alpino della Convenzione delle Alpi, di cui ci aveva parlato prima la signora Alenka Smerkol. et donc nous sommes très contentes que le signor Ojeski soit avec nous pour présenter le plan d'action sur le climat 2.0 de la Convenzione des Alpes, en particulier avec le focus sur l'agriculture de la montagne, mais peut-être qu'il y aura un peu de temps sur le tourisme. Le signor Ojeski, si est avec nous, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Diego. Merci beaucoup pour l'invitation. pour l'invitation à cette meeting. Je pense que c'est important que nous parlons aussi, quand nous parlons de l'autorale brands, nous parlons de la climat change. Et je vais essayer de partager mon screen avec vous. Et let's look where we are. It's always a bit tricky. So, here we are. Okay. Yeah, again, many thanks for the kind invitation. And let's turn to the first slide. What is the Alpine Climate Board? The Alpine Climate Board was established in 2016 already by the 14th Alpine Conference. The board has the members of all Alpine states, but also observers like Alpac, WWF, and many others. So, we are a broad community working on climate. You see the challenging circumstances, and we have heard a lot in the previous interventions and presentations. We have a real problem in the Alps. The global temperature rise is more than 1 degrees Celsius since the pre-industrial level. And in the Alpine region is more than 2 degrees, so double the increase. And this temperature increase affects around 14 million inhabitants in the Alpine area. We talk about 30,000 animal species, 13,000 plant species. So, a lot of ecosystems touched and harmed by climate change. So, what we are doing, the overall objectives are enshrined in the Alpine Climate Target System for 2050. This was the first big product of the Alpine Climate Board. We derived this Alpine Climate Target System until the Alpine Conference in 2019 in Innsbruck, the 15th conference where our ministers adopted this Alpine Climate Target System. Now, or then, the next mandate was to operationalize this climate target system, and we developed several pathways. And in fact, the outcome of this exercise during the last two years was the adoption of the Climate Action Plan 2.0 in December last year by the 16th Alpine Conference. Why Alpine Climate Action Plan 2.0? There was a first action plan on climate, the action climate action plan of AVR of 2009. So, it was more than due that we overhauled this action plan from 2009, and we put a completely new system together based on the Alpine Climate Target System. And now we are creating an atmosphere for implementation by matchmaking the different observers, actors, parties, and so on. And we also produce the homepage where all the information is gathered, and you will see a link in one of the next slides. This is the famous house we are working on. And yeah, the roof is all the other or bigger targets, I would say, which have already been mentioned. So, the SDGs, of course, the whole UNFCCC process, the Paris Agreement, but, of course, also the Alpine Convention and its protocols. There is no protocol on climate change. So, we try to put together all the inputs under other tracks within the Alpine Convention, within the Alpine Climate Board. We have, of course, several principles to look upon. And the left one here is, in our view, a very important one, especially for the discussion today and tomorrow. So, the transition which is necessary to achieve climate-neutral Alps and climate-resilient Alps. You see these targets here, the overall targets. It's important that we base our action, our implementation exercise, on the cultural and natural heritage, which is there and is well developed. And this shouldn't be thrown overboard, but used and integrated in our policies. Yeah, of course, transnational action is important. Co-benefits for water quality, for air quality and so on. And we want to create model regions for integrated action. So, also towards specific actions like following or highlighting territorial brands. And at the bottom of this figure, you see the 10 sectors we were working on. So, we have targets for the 10 sectors. And cross-cutting sectors are municipal action and research and development. And all this is accompanied by a communication exercise. So, to bring our results into the public. And so, I'm more than happy that I can present also our findings here at this workshop of the Action Group 6 of USA. Yeah, so what we are doing now, as I said, the target system dates back to April 2019. And the mandate since then was to find the methodology to take a step from targets to action. I have to say that targets are mainly qualitative ones, because we didn't want to replicate other targets like the SDGs, like the targets of the EU Green Deal or other targets within the climate discussions internationally and on the EU level. So, we tried to add on on these existing targets. We defined implementation pathways for the 10 sectors you saw on the previous slide. And then we did the prioritization exercise. So, we tried to, all in all, we derived 30 pathways. And for the sake of the climate action plan, we condensed it to 16 pathways and highlighted these actions there. And what is also important is we made use of a participatory process. So, we invited other groups, technically working bodies of the Alpine Convention, use the commission. Yeah, many others to give input to our work and we mirrored our work and brought feedback. So, all in all, we tried to create an implementation friendly environment. Yeah, as I said, the climate action plan itself has been adopted last December. And we look here on the next five to 10 years. So, we don't dare to look until 2050 and find solutions for the next 30 years. But we wanted to define specific steps, concrete implementation action to be implemented within the next five to 10 years. We collected political messages, which our ministers adopted then. Of course, we integrated green recovery, because it's important that when we recover economically from the pandemic, we should not repeat old mistakes, I would like to say, but try at the same time to create a climate friendly and climate resilient recovery, together with an economic recovery. So, this is important and in many member states and states, a lot of money is also reserved for climate related action. The 16 pathways are summarized in the core of the climate action plan and the full package of implementation pathways you can find as an annex. Yeah, this is an overview of the 16 prioritized areas, maybe it's difficult for you to read. If you look at the mountain agriculture, we have two priorities pathways. In fact, we have only two, but these are really important and rely a lot on the work of local markets, I would say, and on territorial plans. And Diego, you mentioned also tourism. So, we try to find a coordinated vision, how we can achieve a tourism which is climate neutral, so with much less or even no fossil fuel emissions, and also climate resilient alpine tourism, which is also important. So, permafrost problems we have in alpine regions, and so on. So, here we have to look upon this as well. But we look both on the mitigation side and the adaptation side. The next slide shows all the 30 pathways. Here we have some more in the tourism sectors. So, this relies a bit to housing and building. So, climate proofing and capacity building for the alpine tourism. Coaching is important and creating packages for climate neutral tourism. So, the travel to the Alps should be climate friendly and commuting within your holiday site should be as climate friendly as possible. And again, the two pathways for mountain agriculture will shed more light in one of the next slides. Yeah, here's a summary of the current products. This is the link to the already mentioned website of our Alpine Climate Board. Here you see the entry page, the 10 sectors. And thanks to the Swiss delegation to the Alpine Convention, they supported financially the creation of this nice slide and the creation of the homepage. So, we try to get a catchy picture to invite people to use our webpage. You find all the main outcomes of the board on this webpage. Of course, the climate action plan, all the 30 pathways, some descriptions, but also the results of the stock taking exercise, which I have not mentioned yet. So, we try to collect all the activities underway under the Alpine Convention related to climate mitigation and adaptation, and it's quite a lot. So, we are around more than 130 projects have been collected up to now, and it will be regularly updated. You find the target system with the targets, the climate action plan, information on the pathways, and most importantly, there's also a slot for the community to implement these pathways for the different sectors for the 10 sectors. There's also an update part of the homepage where we give information on events, news. For instance, we performed two webinars, one on financial options to support the implementation of the activities in the climate action plan, and quite recently, another webinar where we talked about the youth involvement in the implementation of the climate action plan. So, some light, and then I will stop to not to eat up too much time from the discussion. What are the challenges for mountain agriculture? Of course, first of all, we have to ensure the Alpine traditional landscape. So, farming, Alpine farming is not only economically an asset, of course, it's important, but it's also preserving the natural or cultural Alpine landscape. We try to look on regional breeds and preserve them, local culture, of course, traditional techniques, and this also leads back again to territorial brands. So, this is unique to the Alpine agriculture. There are specific techniques which we could sell as a niche product, definitely. And agriculture is also very sensitive to the impacts of climate change. So, on the one hand, the agriculture is some sort of actor, because agriculture is emitting greenhouse gases. But on the other hand, agriculture is a victim of climate change, and has to adapt to the different conditions already now and especially in the future. Yeah, food products, high quality food products, branded as from Alpine regions, niche products have definitely value. And additional assets for mountain farmers. We also want to increase the share of organic farming in the Alps. And yeah, all this should help to create value added for the farmers and for the regions as well. So, these are the targets for mountain agriculture. So, on the mitigation side, we should aim for, and it's always with a view to 2050, we should try that the Alpine farms are energy self sufficient, so they produce the energy they use by themselves, ideally. The value chains, of course, for agricultural products is a definite aim. Model region for organic farming, as I said. And yeah, at the end, find resilient and also climate friendly mountain agriculture without any fossil fuel emissions. Yeah, and here are the two pathways in more detail. So, the Alpine products is the first pathway where we first aim to define indicators, what are climate friendly and sustainable products from Alpine farms, or Alpine farms as such. And then we aim for setting up an Alpine regional strategy for such climate friendly agricultural products. And this is within the next four years. And then there's a lot of days, we had environment day on the 5th of June quite recently, but to think about an EU day for Alpine mountain products could be also something we should follow. And the other pathway, the organic farming increase and enhancement. So, we start again with the stock taking already underway. We try then to define agricultural scenarios, organic scenarios, what is key, what is organic in the Alps, is it's different from other definitions, special definition. And then we try to collect all the policies to promote organic farming. And we would like to aim at 50% of the total surface of Alpine, of mountain agriculture within the Alps. It's a tough target, but yeah, we hope to. And I think we run into open doors that this might be possible. And finally, of course, we have to implement all these actions, which is then another look in the future. And I should also mention that the two caretakers who work on the implementation of the two pathways is Cassiano Luminati from Polo Poschiavo and Karin Augsburger from the federal office for spatial planning in Switzerland. And I saw Cassiano is also following our discussion. So thank you very much for that. You two took over the task and build the core of the community of implementers. So they collect a lot of possible contributors, and they lead the group through all these different steps. Yeah, what are the next steps? And this is... Oh, Mr. Uesky, I'm very sorry, but I really need to stop you. Okay, this is the last one. Okay. But we can skip it. It's quite straightforward. So we go ahead with implementation. We update our stock take. And of course, we do outreach to other mountain regions, especially as mentioned before. And that's it from my side. Thank you. Thank you very much. And sorry for interrupting you. Well understood. It was super interesting and I think that particularly in the work that will be carried out, but I'm going to speak again in English, scusatemi, but in the work that will be implemented in the next time, in the next time, there will be a lot of resources that you are generating to be able to make sure that everyone can do their work. Now, I'll give you a little bit the word to Christian Hoffman, that is a representative of the National Development for the Regional Development of the Eurac Research, our parents of casa today, that is also a lead partner in the 100% local project of the Alpine strategy, appena concluso, sì, che ha sviluppato delle metodologie molto interessanti attraverso metodologie partecipative attraverso cui i territori possono cercare di cogliere le sfide che vengono dal futuro, tra cui anche quello dell'emergenza climatica. Cristian, a te la parola, grazie mille. Grazie, grazie Diego. Grazie per l'inferimento Diego. Ich werde auch die Gelegenheit nutzen, auf Deutsch weiterzumachen, nachdem ja in diesem internationalen Workshop alles übersetzt wird. Und ich danke auch dem Herrn Hoyeski, dass er den Cassiano Luminati genannt hat. Ich glaube, das ist sozusagen der Übergang zu der Präsentation jetzt, die ich geben werde. Nachdem wir zuerst diese hohe Flugebene hatten aus dem Climate Change Thema in den Alpen, von dem Alpen Climate Board, versuchen wir jetzt auf die lokale Ebene herunterzukommen. Und ich habe jetzt die schöne Aufgabe, 100% lokal vorzustellen. Das war ein ARPAV-Projekt, ein Alpen Region Preparation Action Fund Projekt, das kürzlich abgeschlossen wurde. Und ich habe ein wenig den Titel jetzt abgewandelt und ihn an den Originaltitel von 100% lokal angepasst, in dem es um die Frage geht, wie können wir der Philosophie regionale Produkte ausschließlich aus 100% lokalen Ressourcen herstellen, einen richtigen Schub geben, Richtung Pust, diese Agi-Food-Value-Chains of the Alps. Sodass dieser so richtige Ansatz eben einfach funktioniert und belebt wird. Alle wollen wir schließlich das, alle sind wir davon begeistert und alle schmücken sich gern auch damit. Nur wenn es um die Umsetzung geht, gibt es meist tausend Gründe und Ausreden, wieso es nicht funktioniert. Ja, und das scheint schon ein wenig Paradox in der heutigen Zeit. Und daher haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir mit 100% lokal zu einem radikalen Wandel hin zu einer lokalen Produktion und zum lokalen Konsum beitragen möchten. Radikal soll dabei weniger zum Ausdruck bringen, dass es sich um einen revolutionären Wandel handeln soll, sondern mehr um einen Wandel zurück zu den Wurzeln, das sich ja radikal, auch vom lateinischen Wort Radix für Wurzel ableitet. Mit dem Modell 100% lokal wollen wir die Sichtbarkeit der albinen Kulinarik, aber auch die Qualität regionaler Produkte steigern. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Entwicklungsschritte in dem Prozessverlauf des 100% lokalen Modells zu standardisieren, damit sich die Prozessabfolge zur Einführung und Umsetzung dieses lokalen 100% Ansatzes auch in andere Regionen und Berggebiete übertragen lässt. Mit wir sind selbstverständlich immer die vier Projektpartner gemeint, die sich bemüht und bedingt durch Covid wohl eher abgemüht haben, diese Projektidee umzusetzen und zu verwirklichen. Neben dem Eurek-Institut für Regionalentwicklung, das dieses Projekt koordiniert hat, waren das vor allem Polo Boschiavo aus Graubünden, Cassiano wurde schon genannt, und die Universität Italien-Schweiz mit dem Sitz in Lugano und das Forschungszentrum der Slowenischen Akademie für Wissenschaft und Kunst. Unterstützt wurde dieses Projekt von der Alpenkonvention, von Alpine Pearls und dem Gemeindennetzwerk für die Allianz in den Alpen. Und was für den Erfolg des Projektes sehr, sehr wichtig war, waren die externen Partner, die externen Experten und Diego Rinalo war einer davon und das war wirklich eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Und Rocco Scolazzi war der Zweite von der Consulting-Partner von Scopia, der auch Dozent für Soziologie und Sozialforschung der Universität Turin ist. Das 100%-Lokalmodell ist dabei aber keine Stand-alone-Lösung. Vielmehr baut es auf den Erfahrungen des Interreg Alpen Space-Projekts Alp Foodware auf, das sich mit der Bewahrung des kulinarischen Erbes der Alpen bereits beschäftigt hatte. Unter einen wesentlichen Einfluss hatte natürlich auch die Ergebnisse aus dem ersten internationalen Workshop der EOSA zu den Territorial Trends. Aber schlussendlich stellt sich mit dem Bekenntnis der EU, wie wir das heute schon gehört haben, zum Green Deal eigentlich gar nicht mehr die Frage danach, warum wir dieses Modell entwickelt haben, sondern vielmehr liefert dieses Modell bereits die praktischen Antworten und die Lösungsansätze zur Umsetzung der Farm-to-Fork-Strategie, von der wir schon gehört haben, von Circular Economy-Ansatz. Und so ganz nebenbei profitiert davon natürlich auch die Biodiversität im Alpenraum. Denn mit dem 100%-Lokalmodell werden diese großen europäischen Strategien auf der lokalen Ebene gleichzeitig und parallel realisiert, weil es sich bei diesem Modell eben um ein territoriales Entwicklungsmodell handelt, dass die Vielfalt an diesen agrarischen Produkten fördern möchte, die zu 100% in der Region erzeugt und verarbeitet werden. Und wir sind eben davon überzeugt, dass dieser kleinteilige lokale Produktionsansatz unter Einbindung aller Akteure entlang des gesamten Kreislaufes der Wertschöpfung nicht nur die regionale Wirtschaft fördert, sondern auch zur Identitätsbildung beiträgt. Und das hilft natürlich auch die Lebens-, die Lebendigkeit dieser ländlichen Räume zu bewahren und neue Möglichkeitsräume und Entfaltungsräume zu schaffen. Zweifelsohne war aber letztendlich der Erfolg von 100% Walposchiavo-Ideen geben für dieses Arf-Aff-Projekt. Daher war natürlich auch Polo Poschiavo und Cassiano Luminati in dieses Projekt mit eingebunden. Denn von dort haben wir auch den Projektnamen 100% lokal abgeleitet. Und von dort haben wir uns die Inspiration geholt, wie man dieses Modell auf andere Regionen der Alpen übertragen könnte. Und auch unseren ersten Workshop haben wir mit den fünf Testgebieten in Walposchiavo abgehalten. Dieser Peer-to-Peer-Learning-Workshop hat die Teilnehmer der Testgebiete so richtig infiziert. Und angesteckt mit diesem Virus 100% lokal, sind sie in ihre Heimatregionen dann zurückgefahren und haben dort begonnen, mit den Stakeholdern vor Ort erste Überlegungen anzustellen, wie sie dieses 100% lokale Modell realisieren könnten. Nun, wer waren diese fünf Testgebiete? Einmal war das Valsott aus Graubünden, Engert in der Schweiz, Oberfinnschgau aus Südtirol, Italien, Piztal aus Nordtirol, Österreich, der Naturpark Freal-Bit-Julie aus der Region Freal-Julisch-Venezien und Bohini und der Nationalpark Triglav aus dem Berggebiet in Slowenien. Und vielleicht dazu zu sagen ist, morgen Vormittag wird auch Armin Bernhardt über den Finnschgau detailliert berichten. Alle diese fünf Regionen haben sich in der Projektlaufzeit intensiv damit beschäftigt, wie sie diesen Ansatz 100% lokal in ihren Regionen umsetzen können, sodass zumindest ausgewählte Produkte und vielleicht sogar Menüs in der Gastronomie oder Hotellerie zu 100% aus lokalen Zutaten gefertigt und hergestellt werden. Alle diese Überlegungen sind in der Regel eng mit den lokalen Traditionen und dem lokalen Erfahrungswissen verbunden. Dabei handelt es sich meist um lokalspezifische Besonderheiten, wie zum Beispiel typische Getreide- oder Gemüsearten, seltene Haustierrassen oder eben spezielle Anbau- oder Verarbeitungstechniken, die dadurch wieder eine Wiedergeburt oder eine Resensions erleben. Und damit besteht natürlich auch eine unmittelbare Verbindung auch zum immateriellen, kulturellen Erd dieser Regionen. Gut, wie sieht nun die Struktur des von uns entwickelten Modells aus, das in andere Regionen übertragbar sein soll? Was natürlich klar sein muss, ein Modell kann niemals eins zu eins auf die Realität einer anderen Region angewandt werden. Übertragen lässt sich nur das Ablaufschema und die Vorgehensweise, auf die ich hier eingehen werde. Im ersten Schritt konzentriert sich das Modell auf die Analyse der aktuellen Situation. Welche Kooperationsnetzwerke sind vorhanden? Gibt es ein Qualitätsprogramm oder ein Zertifizierungssystem für bereits vorhandene Produkte? Wie sind die betroffenen Sektoren aufgestellt oder organisiert? Die Landwirtschaft, der Tourismus, aber wie sind auch die assoziierten Bereiche, die Kultur, die Bildung oder betreffende Politikfelder aufgestellt? Und in der zweiten Phase geht es um die Frage der Entwicklung einer Vision für die nächsten zehn bis zwölf Jahre. Und dazu sind auch die entsprechenden Megatrends einzubinden. Wir haben schon gehört vom Klimawandel, aber auch der Wandel in der Technik, in der Digitalisierung, Tragen zum gesellschaftlichen und demografischen Wandel, sind hier entscheidend, wenn es darum geht, diese Vision zu entwickeln. Und damit wir uns leichter getan haben, diese Vision zu entwickeln, haben wir dieses Drei-Horizont-Modell verwendet, wo im roten Horizont die aktuelle Situation wieder gespiegelt wird. Nämlich man startet heute, man stellt die Probleme fest, man stellt die Herausforderungen fest, die einem entgegenwirken, wenn man so eine Vision beschreiten will, die in Zukunft realisiert werden soll. Und deswegen sinkt diese rote Kurve auch im Laufe der Zeit. Und die grüne Kurve, die diesen Werdegang der Vision symbolisiert, steigt. Und die blaue Kurve, der zweite Horizont, dazwischenstellt die Innovation und die technischen Lösungen dar, um die Herausforderungen und Probleme zu lösen. Diese nehmen dann logischerweise am Ende der Laufzeit ab, wenn die Vision bereits realisiert wird, weil dort die technischen und innovativen Innovationen bereits implementiert wurden. Und im dritten Schritt und letzten Schritt geht es dann darum, diesen Plan, diese Ideen auch zu realisieren, indem man operative Ziele einführt. Das heißt, hier geht es darum, den Zeitablauf festzulegen. Hier geht es darum, zu entscheiden, welche Kompetenzen muss ich mir von außen zukaufen oder welche Ressourcen habe ich endogen vorhanden, um meine Ziele zu realisieren. Alle diese Informationen zu diesem Territorial Development Canvas Modell können Sie dann auch auf der Seite 100-Lokal.eu einsehen und nachschauen und nachlesen, wo es noch wesentlich mehr Material und auch Videoanschauungsmaterial geben wird. Und wie schon gesagt, war ein Hauptziel von 100% lokal die Entwicklung eines übertragbaren Territorial Development Canvas Models, damit eben auch andere Regionen von diesem 100%-Lokalansatz profitieren und imstande sind, ihre kulinarischen Besonderheiten aus der Region in Wert zu setzen, die zu 100% lokal produziert und verarbeitet werden. Über das Modell sollen den Regionen dann aber auch bewusst gemacht werden, dass es nur über die Einbindung der lokalen Stakeholder funktioniert. Auch das haben wir heute schon mehrmals gehört. Die eben auch wollen und die an diese Vision glauben, weil nur gemeinsam akzeptable und nachhaltige Ideen und Innovationen für die Region entwickelt werden können. Und wenn es uns eben gelingt, mit der Marke 100% lokal die regionale Wertschöpfung anzukurbeln und die territoriale Resilienz in der peripher gelegenen Berggebieten zu stärken, wären wir unserem Ziel einen Schritt näher gekommen, über den 100%-Lokalansatz die Ideen des europäischen Green Deals mit seinem Ansatz zur Kreislaufwirtschaft und seiner Farm-to-Folk-Strategie auch in die Berggebiete hineinzutragen. Und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Und jetzt bleibt mir nur noch der Hinweis zu geben, dass Sie bitte auf diese Webseite gehen und sich alle diese Details dort ansehen. Unter 100lokal.eu ist das möglich. Sehr herzlichen Dank. Grazie mille Christian per questo intervento purtroppo stringato, il tempo tiranno così, ma volevo dire a tutti che questa interessantissima metodologia basata su Feature Studies ci sarà presto disponibile sul sito che ho menzionato nella chat comune del materiale, proprio con delle indicazioni su come applicarla ed è veramente interessante. Allora abbiamo un piccolo cambiamento di programma, do la parola a signora Alessa Perotti, diciamo un'inversione degli ultimi due interventi. Alessa Perotti ci parla, rappresenta Bites of a Transfood Nation, che è un progetto della missione permanente della Svizzera presso le Nazioni Unite a Roma per il coinvolgimento delle nuove generazioni, che è un tema che abbiamo citato in vari interventi in questa giornata di oggi. Così hanno fatto tantissimi lavori legati alle attività del Food System Summit delle Nazioni Unite, che sapete è in corso in questo momento, durante quest'anno. Alessia Perotti è una Young Transformer e ci parlerà della sua tesi di laurea magistrale in cui ha sviluppato una metodologia molto utilissima per misurare il vero costo del cibo, the true cost of food, and Alessa, the floor is yours. Thank you, Diego. Can you just quickly say if you can hear me well? Yes? Wonderful, okay. So, hi, everyone. My name is Alessa. I completed my Master's in Food Science at ATL Zurich last year, and I'm going to present briefly my Master's thesis on the true cost of food. And so the underlying hypothesis here is that understanding the true cost of food will also help to better understand or quantify the value of small-scale territorial brands. and I am going to quickly answer five questions. So what is the true cost of food? Why is it important to understand the true cost of food? How can we understand the true cost of food? What do first results say? And where do we go from here? So the first one, what is the true cost of food? So the true cost of food is a term used to identify all costs generated by a product over its life cycle. So really environmental, social, economic costs that are currently not reflected in food prices. So the true cost of food is what you get when you add what is called externalities to the price we currently pay for food products. So why is it important to understand? You are all aware that the food system is not sustainable. It's a major contribute to the climate change. It's a main driver of biodiversity loss. Our diets cause really high health costs worldwide. Farmers and food system workers are often those most affected by food insecurity and poverty. Our tax money often supports unsustainable food systems. And of course, there is a large impact on animal welfare as well from the way we produce food. And all of these things are currently not accounted for in food prices, even though they really stall sustainable development. And unfortunately, the way demand is evolving, we expect those costs to further increase. So there is really now a common agreement that we need to start understanding the true cost of food and set a baseline and then really start setting targets to reduce external costs of food systems. It's expected that this will be an important topic at the upcoming Food Systems Summit. And the EU also has just launched a call for a common language on the true cost of food in the context of its Horizon programs. So in my thesis, I proposed a first methodology to measure the key impacts of the food system. And I differentiate between six main impact areas of the food system. So biodiversity, for example, land transformation, so impact on non-human life on Earth and ecosystem services, environment, which is the classic one we all think about, for example, greenhouse gas emissions and climate change, animal welfare, the economy, human health, and livelihoods. So for livelihoods, an example would be workers performing unpaid labor or exposure to pesticides that then lead to negative health outcomes. And whereas the human health itself is more connected to the consumption of food and the diet costs that the food system causes. And I will only like, I will show you my results now. If you're interested in any of the details, the PowerPoint will be uploaded. There will be some information, but then also my thesis is available online. So you can just go and check the whole thing out if you're interested. So I identified about 28 key externalities to measure and I applied those or I applied that methodology to both the Swiss food system and then eight selected food products. So first, let's look at the results on the Swiss food, national food system level. So what you have here is on the left-hand side, 37.4 billion is what we currently spend on food and non-alcoholic drinks in Switzerland. And on the right-hand side, an estimation of the true cost of this food, which would be about double. So 70 billion Swiss francs. And in the middle, you can see all of the impacts or the costs in all of the impact areas. So what you can see here is that biodiversity and human health costs really drive these external costs. But it's very important to say that this is a minimum estimate. There are many things I couldn't quantify yet and that will need much more research. And yeah, it's going to be interesting to see how this further develops. But this is the first picture and it essentially tells us what we already knew. The food system is really not sustainable. So the next question is then, what do we have to do to make it more sustainable? And for that, the important question is, what are we actually eating and what drives these external costs? So I also applied the methodology to eight food products. Apple, potato, carrot, wheat, milk, cheese, chicken, and beef that are commonly eaten in Switzerland. And what is very clear here, so what you see in this blue color is the current price. This is per 100 kilocalories. And then the external costs. And for example, apple and carrots would actually be cheaper in terms of true costs because if we ate more of them, we would be much healthier and we will be able to reduce public health costs. But the things that are likely driving external food system costs are the animal-based products. And for example, in Switzerland, we eat three times as much red meat as recommended by our dietary guidelines. So of course, this is just a first view. This is also just conventional Swiss production. It would be extremely interesting to apply that to different production systems. And for example, also look at small-scale territorial brands. And yeah, it will be very exciting to see how this further develops and also to quantify additional products. But I really expect that this will really gain importance in the discussion on how to actually transform the food system in the upcoming months or years, hopefully. So how do we proceed from here? The overall takeaway is that reducing external costs of the food system is key to achieving sustainable development. And actually what I can also mention here is it's not only reducing external costs, but we can also optimize external benefits of the food systems, which are also currently not included in food prices. These are much harder to quantify and weren't in my thesis, but I expect more research to come up there as well. And if we really want to have a clear vision of how we should get there, a common data-driven approach for assessing food system costs and benefits really is a huge opportunity to create a sustainable food system. And in my view, that should be a food system where products with higher external costs are actually more expensive and the ones with lower external costs are cheaper. So the sustainable decision actually becomes the default decision along the supply chain. And in the context of today, I really think this is an opportunity also to also quantify the value of small-scale territorial brands, also in terms of the positive impacts they cause. So I know this was a lot and very fast. Feel free to reach out to me if you have any questions on LinkedIn or as I said, I can also share with Diego the link to my thesis if anyone is interested in the details. Thank you so much. Grazie mille Alessa e ho caricato direttamente il link alla tua tesi nella chat comune quindi chiunque può ovviamente rivolgersi a lei oppure scaricarla e dare un'occhiata. Io la sono letta nelle scorse settimane e l'ho trovata veramente mind-blowing. Grazie veramente per questo contributo e do subito la parola. Allora siamo un pochino in ritardi, me ne spiaccio, me ne scuso e purtroppo insomma abbiamo voluto veramente dare tantissimi stimoli oggi in questa giornata e spero che riusciate a stare ancora un pochino con noi ma sappiate che comunque la registrazione sarà resa disponibile. Do subito la parola al signor Is, Christian Is che è il fondatore e CEO di Regional Wert AG Freiburg in Germania che ci parlerà della metodologia sviluppata dalla sua azienda e per certi versi il suo lavoro è un po' simile ma molto più complesso rispetto a quello di Alessa nel senso che vuole quantificare ma anche monetizzare l'impatto di tutte queste esternalità. Grazie mille, Mr. Heese, lei la parola. Herzlich willkommen per l'inladung, herzlich willkommen, Herr Professor Rinalo. Sehen Sie meine Präsentation? Sehen Sie meine Präsentation? Ja, ja, wir sehen das, ja. Gut, ich werde heute auf zwei Themen eingehen. Kurz, ich habe jetzt erst gesehen, dass viel über regionale Strukturmodelle gesprochen wird an dieser Konferenz und ich werde deshalb kurz zwei Themen erwähnen. Einmal die Regional Wert AG als regionales Intermediärorgan zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft als Strukturmodell. und zweitens das Thema, was Herr Professor Rinalo angesprochen hat, richtig rechnen in der Landwirtschaft, Bewertung von Leistungen der Landwirtschaft zu Nachhaltigkeit. Ich werde versuchen, in 15 Minuten diese außerordentlich komplexen Themen zu präsentieren und biete jetzt schon an, wenn es Nachfragen gibt, auf mich zuzukommen, weil ich morgen leider nicht dabei sein kann. Ich bin seit 40 Jahren, seit mittlerweile 40 Jahren in der ökologischen Landwirtschaft tätig und war schon vor 20 Jahren, im Jahre 2000, unzufrieden mit der Entwicklung des Ökolandbaus in Deutschland. Wir sagen, der Ökolandbau hat sich konventionalisiert. Konventionalisiert bedeutet, den ganz normalen, konventionellen Entwicklungsstrom mitgemacht. Die kleinen Betriebe sind eingegangen, der Handel hat sich vergrößert und die Landwirtschaft ist abgehängt worden. Und ich habe dann vor 20 Jahren begonnen, mich auf die Suche gemacht nach einem Konzept, wie wir heute sagen, zur regionalen Subsistenzwirtschaft als Folgemodell zur bäuerlichen Ökonomie. Also wie können Regionen eine Art regionale Selbstversorgerwirtschaft und dabei ist herausgekommen, die Regionalwert AG. Und AG ist hier ein Shareholder Company, Shareholder Value Company in Deutschland. Das Modell geht so, Bürgerinnen und Bürger kaufen Regionalwert Aktien, Shares und zahlen ein und übernehmen damit wirtschaftliche Verantwortung für ihre Region. Die Regionalwert AG investiert dieses Kapital in kleine Betriebe der Land- und Ernährungswirtschaft, also die gesamte Wertschöpfungskette. Sie sehen hier das Symbolbild. Und wir bauen als Regionalwert AG einen regionalen Wertschöpfungsraum auf. Das ist der Entwicklungsbegriff, ein Wertschöpfungsraum, in dem alle Wertschöpfungsstufen veranlagt sind in Form von kleinen Betrieben. Was ganz wichtig ist, wir haben schon vor 15 Jahren gesagt, bei Gründung der Regionalwert AG, dass die sozialen und ökologischen Leistungen der Betriebe, in die die Bürgerinnen investiert haben, dass diese Leistungen als Rendite zu sehen sind, als Rendite auf Kapital. Und dementsprechend haben wir dann Nachweismethoden für diese Leistungen entwickelt. Regionalwert AG Freiburg hat jetzt 25 Betriebe. Das sind Erzeuger von Fleisch, von Wein, von Honig, von Gemüse, von Obst. Aber wir haben auch Großhändler dabei und vor allem Einzelhandelsgeschäfte, aber auch Verarbeiter wie Eisproduzenten, Lieferservice, Kindergarten-Catering und ein Restaurant in der Stadt, was sehr, sehr gut läuft und viel Nachfrage bringt in die Produktion. Aber wir haben auch Dienstleistungen so bei wie Integration von behinderten Menschen oder Beratungsfirmen oder eine Forschungsgesellschaft oder Stromproduzenten. Also wir konzentrieren uns nicht nur auf die Landwirtschaft, sondern wir wollen die ganze Wertschöpfungskette in der Region in Form von Einzelbetrieben veranlagen. Ganz, ganz, ganz wichtig, um so Angebot und Nachfrage auf die Region zu konzentrieren. Das ist das Strukturmodell. Die Regionalwert AG gibt es schon fast in ganz Deutschland. Es gibt jetzt zehn Regionalwert AGs, die nach diesem Konzept und mit dieser Marke arbeiten. Und das erste, die erste Regionalwert AG ist auch in Österreich gegründet worden und wird jetzt in Luxemburg gegründet. Also das weidet sich aus, das Strukturmodell. Aber das soll es schon gewesen sein mit dem Strukturmodell. Wie gesagt, Regionalwert AG, Bürgerinnen und Bürger kaufen Aktien, bringen Kapital. Mit diesem Kapital werden Unternehmen gegründet, die dann eigenständig, wirtschaftlich eigenständig zusammenarbeiten innerhalb einer Region, um die regionale Wertschöpfung tatsächlich in der Region zu konzentrieren. Wir haben einen Zielkonflikt in der Landwirtschaft. Das ist ja in jedem Beitrag klar geworden. Und das ist auch der Hintergrund von vielen Initiativen, nicht zuletzt von Farm to Fork, was Frau Lüttingen vorgestellt hat. Gesellschaft und Landwirtschaft streben nach Biodiversität durch vielfältigen Anbau, Aufbau von Bodenfruchtbarkeit, adäquater Entlohnung der Betriebsleiter und der Angestellten, artgerechte Tierhaltung. Nur die aktuelle Erfolgsrechnung, das heißt, die Betriebswirtschaft, die Buchhaltung und Bilanzierung, die drängen zur Spezialisierung, zur Effizienzwirtschaft, kurzfristig ertragreichem Anbau, keiner leistungsgerechten Entlohnung und wenig Tierwohl. Also ich sehe hier den Zielkonflikt zwischen in der Gesellschaft und mit der Landwirtschaft gar nicht in diesen Gruppen, weil nach meiner Erfahrung, wollen alle eine gute und langfristig und nachhaltige Landwirtschaft. Aber das System, die Methode der Erfolgsrechnung, der Betriebswirtschaft, das will genau das Gegenteil. Und wir haben einen großen Fehler gemacht vor die letzten Jahrzehnte, vor 50, 60, 70 Jahren, dass wir die Buchhaltung und die Bilanzierung aus der Industrie und aus dem Handel übernommen haben in die Landwirtschaft. Und das zu ändern, da bin ich dabei, das ist mein großes Forschungsthema. Diese falsche Erfolgsrechnung hat dazu geführt, dass Externalitäten entstehen. Das haben wir ja gehört, in jedem Vortrag, auch von meiner Vorrednerin. Und Boston Consulting Group hat ausgerechnet, vor zwei Jahren, dass die deutsche Landwirtschaft jährlich 90 Milliarden Euro Schäden verursacht. Und Sie müssen sich vorstellen, die deutsche Landwirtschaft macht nur 40 Milliarden Umsatz und macht aber 90 Milliarden Schäden. Das ist eine Struktur, ein Grundproblem, ein systemisches Problem, an dem wir arbeiten müssen. Wir haben dann Forschungsarbeiten gemacht. Thema, die Projekte hießen richtig rechnen in der Landwirtschaft. Ich hoffe, die Dolmetscher können das übersetzen. True Calculate, nicht True Cost, True Calculate, True Value. In der Landwirtschaft könnte man es übersetzen. Bewertung und Monetarisierung von landwirtschaftlichen Nachhaltigkeitsleistungen. Und hier kommt der entscheidende Unterschied zur Methode meiner Vorrednerin. Wir erfassen und bewerten nicht die Schäden, die wahren Kosten, sondern wir bewerten die Leistungen der Landwirtschaft für Bodenfrachtbarkeit, für Biodiversität, für regionales Wirtschaften und geben denen dann einen Wert. Und die Methode sieht so aus. Die erste Stufe ist die Erfassung von sozialökologischen und regionalökonomischen Leistungen im Betrieb, im landwirtschaftlichen Betrieb. Die zweite Stufe ist die Interpretation durch Grenzwertsetzungen. Die dritte Stufe ist die Monetarisierung und die vierte Stufe ist die Erstellung der Bilanz. Also ich gebe mich erst zufrieden, wenn wir es geschafft haben, dass die ganz gewöhnliche Bilanz der Unternehmen, der Betriebe, der Landwirtschaft und Betriebe nachhaltiges Wirtschaften operationalisiert und Bodenfruchtbarkeit als Betriebsvermögen anerkennend. Die Themenfelder, die wir erfassen, ist Ökologie, soziales, Regionalökonomie. Darunter verbergt sich bei Ökologie Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität, Klima und Wasser und Tierwohl, aber im sozialen auch Fachwissen, also Ausbildung und der Betrieb in der Gesellschaft und dann Regionalökonomie, wirtschaftliche Souveränität, regionale Wirtschaftskreisläufe. Das ist nur ein ganz kurzer Überblick in der Kürze der Zeit. Wir haben 200 Leistungskennzahlen eines landwirtschaftlichen Betriebes operationalisiert. 200 Leistungskennzahlen, mit denen wir ein nachhaltiges Wirtschaften des landwirtschaftlichen Betriebes erfassen. Wir haben Instrumente, Instrumente entwickelt, die jeder landwirtschaftliche Betrieb anwenden kann. Das ist die Regionalwert- Nachhaltigkeitsanalyse. Der Betrieb gibt bei uns auf der Internetseite die Daten ein, seine Daten ein und bekommt eine Auswertung sofort zugesendet. Das geht alles automatisch und das und sieht dann in dieser Auswertung, in der Bodenfruchtbarkeit ist er, naja, Orange, das sind fünf Stufen, von stark nachhaltig bis schwach nachhaltig, dunkelgrün ist stark nachhaltig, rot ist nicht nachhaltig und so bekommt der Betrieb eine schnelle Analyse, wo er in Bezug auf soziale, ökologische, regionalwirtschaftliche Leistungen steht. Das zweite Instrument, was auch sehr interessant ist, ist die Regionalwert- Leistungsrechnung, hier geben wir den Leistungen dann monetäre Werte und das sieht dann so aus, ein Betrieb gibt dieselben Daten ein und bekommt dann eine geldwerte Rechnung, eine monetäre Rechnung, wie viel Mehrwerte aufgrund seiner Leistungen er für Bodenfruchtbarkeit, für Biodiversität, für Klima und Wasser, Tierwohl, wie viel das seine Leistung wert ist und Sie sehen hier die Summe, die Regionalwert- Leistungen, er hat, dieser Betrieb hat einen Mehrwert geschaffen von 54.296 Euro und wir sind jetzt seit zwei Monaten dabei, diese Regionalwert- Prämie, also das Ergebnis dieser Leistungsrechnung hier, das als Regionalwert- Prämie in die politische Diskussion zu bringen und vielleicht ist Frau Lütheken noch hier, das wäre auch für sie sehr interessant, weil wir sagen, wenn, also diese bewertete Leistung eines Landwirtschaftler im Betrieb ist, das könnte die Summe sein, die aus der GAP in die Betriebe fließen kann, also eine leistungsgerechte Vergabe von GAP-Mitteln und nicht mehr Flächenvergabe und das will ja auch Farm-to-Fork und wir haben jetzt seit 15 Jahren vorgearbeitet, dass wir hier diese Methode und diese Instrumente haben, die jeder Landwirtschaftler Betrieb anwenden kann, zunächst im deutschsprachigen Raum, aber wir sind dabei, in Spanisch zu übersetzen, in Italienische zu übersetzen und um das dann auch anwendbar zu machen in anderen europäischen Ländern. Sehr, sehr interessant ist, dass die Modellrechnungen, die wir bisher angestellt haben, die Modellrechnungen sagen, dass die Leistung der Betriebe, die wir bisher durchgerechnet haben, diese Mehrwertleistung nur 12,5% mehr ist, als die Betriebe jetzt erwirtschaften, Umsatz machen. Und das ist das Besondere meiner Methode, dass wir nicht die Schäden, also die Wirkung des falschen Wirtschaftens berechnen, sondern die Leistungen zur Schadensvermeidung, wie wir sagen. Und das wesentlich weniger Geld ist, als wenn wir die Schäden bezahlen müssen hinterher. Also wir setzen auf die Leistungen der Landwirtschaft der Betriebe und sagen, wenn die Leistungen der Landwirtschaft der Betriebe bezahlt wird für nachhaltiges Wirtschaften, dass überhaupt keine Schäden entstehen, ist das wesentlich billiger, günstiger, als wenn wir die Schäden bezahlen müssen, die zum Beispiel Boston Consulting grob ausgerechnet hat. und jetzt ist es sehr interessant, die deutsche Landwirtschaft macht ungefähr 38 Milliarden Umsatz und wenn wir das hochrechnen, diese 12,5 Prozent, dann sind wir genau bei 5 Milliarden Euro und diese 5 Milliarden Euro, die werden im Moment schon bezahlt aus öffentlichen Mitteln über die GAP. also mein Plädoyer ist, es ist machbar, dass wir die Landwirtschaft der Betriebe die Nachhaltigkeit bezahlen, die Leistung bezahlen und wir brauchen überhaupt nicht mehr Geld, sondern das Geld ist da, wir müssen es nur entsprechend der Leistung ausgeben an die Betriebe, um dann die große Transformation in Gang zu bringen. Also wir haben damit mit meinen Methoden und Instrumenten ein Steuerungselement für eine Transformation und der Landwirtschaft, wir haben einen zielgerichteten Einsatz der GAP-Mittel, wirtschaftliche Situation der Betriebe wird besser dadurch, weil sie Geld bekommen für Nachhaltigkeit und ganz interessant volkswirtschaftlich gesprochen, hochwertige Lebensmittel werden langfristig günstiger, weil diese vielen Leistungen die Ökobetriebe vielleicht bringen, dass die sozusagen aus öffentlichen Mitteln bezahlt werden und dann werden die Produkte am Markt dadurch günstiger. Vielen herzlichen Dank, es ist kaum möglich in 15 Minuten so ein komplexes, zwei komplexe Themen darzustellen, aber ich bin trotzdem froh dabei gewesen zu sein. Grazie mille, Signor Yves, per questo intervento che veramente enthuziasmante. Mi spiace che il intervento è stato alla fine di due ore molto ricche di spunti, però io trovo enthuziasmante il suo intervento è quello di Alessa di prima che ci dicono che misurare quantificare addirittura monetizzare come ci ha mostrato un attimo fa così è veramente un modo molto importante per comunicare sia alle autorità pubbliche però metto la mia enfasi di marketing anche ai consumatori che ci sono delle differenze che alcuni modi di produrre creano esternalità negative quindi distruggono valore misurato in vari modi così altri invece sono virtuosi e producono invece valore e che a volte i prezzi di mercato su cui noi tutti ci concentriamo anche come consumatori riflettono solamente una parte della storia è un peccato che domani noi abbiamo una abbiamo una start-up che si sta specializzando ma ne faremo avere tutto il materiale sta specializzando anche nel visualizzare attraverso delle soluzioni facili tecnologiche QR code eccetera tutte queste diverse modalità di creazione del valore ora siamo grazie ancora siamo perfetto thank you very much very happy that you are translating also in italian allora il programma prevedeva un po' una sessione di domande e risposte però non ci sono non ci sono delle domande che sono state fatte finora quindi abbiamo comunque la giornata di domani per proseguire il dibattito e quindi se non ci sono domande impellenti c'è una mano alzata prego prego Renata Cerkovnik non so se vuole scrivere nella chat grazie non riesco a vedere chi ha alzato le mani però o aprendo il microfono forse non si riesce ma scrivendo potete rivolgere le vostre domande e magari indicando anche a chi cerchiamo di fare il nostro meglio per rispondere domande commenti forse abbiamo qualche difficoltà tecnica e non riusciamo a fare io darei così come soluzione improvvisata mi dicono che bisogna lo staff tecnico mi dice che bisogna porre domande nel quadrante domande risposte che vedete nella riga in basso accanto proprio all'icona del globo per l'interpretazione rinallo per l'incontrino 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 Scusate parlo italiano, mi è stato detto da qualcuno nel pubblico che non si riesce a scrivere, c'è qualche problema tecnico che non so se riusciamo a risolvere in questo momento. Allora io quello che posso fare, soluzione improvvisata, scrivo il mio indirizzo email e chiedo di inviare le domande lì, non riusciamo a dare risposta in real time adesso, però domani abbiamo un'altra possibilità per dare risposta. L'altra possibilità è di scrivere nella chat, comune, se riuscite magari datemi un feedback su questo. Ok, allora facciamo che per oggi purtroppo siamo costretti a chiudere qui, lasciamo queste domande all'indomani anche grazie a questa email in cui potete inviare delle domande. Voglio ringraziare veramente tutti i partecipanti per aver reso possibile questo incontro così ricco di spunti eccetera e la buona notizia è che questa è solamente la prima parte perché domani abbiamo una seconda parte in cui lasceremo parlare veramente i rappresentanti delle marche territoriali, ma anche gli esperti che hanno studiato marche territoriali e abbiamo veramente un programma altrettanto ricco. Quindi io vi ringrazio tutti per l'attenzione, mi scuso anche per il ritardo che abbiamo accumulato e vi aspetto domani. Ancora grazie mille e buona serata. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie Rinaldo. Scusate, volevo in chiusura ringraziare veramente tutto lo staff tecnico che ci ha aiutato, ha aiutato tantissimo a risolvere anche individualmente i piccoli problemi e soprattutto volevo ringraziare anche il team di traduzione simultanea che ha reso possibile questa cosa bellissima che non ho potuto parlare la sua lingua. Grazie veramente a tutti per aver reso questo evento possibile e ancora buonasera e a domani.